La Brescia riscatta la prova di sette giorni fa già in retorno a recitare un ruolo di primo piano mentre il Brescia dopo qualche sintomo di risveglio ripiomba nel grigiore. I padroni di casa vanno a segno nel primo tempo con Caneo e vengono poi lanciati alla vittoria ad un infortunio difensivo bresciano di occhi pinti, mentre Venturini a siglare la terza lete. Nuovamente in crisi...